Autorizzare ricognizione Che paura Faccio l'audio buggato C'è l'audio buggato Che merda sta cosa Non manco modo di fixarlo Si sento vattato Si capisce un cazzo Si sente un cazzo Si sente niente Che palla Oh c'è uno lì dentro Voi non sentite L'audio modificato? Io lo sento vattato ragazzi il suono Ragazzi ho ammazzato un player Ma la vera domanda è Do cazzo l'ho ammazzato? Ah eccolo Autorizzare ricognizione Jaguar 3-0 Confermato Fattugliamento UAV iniziato Che paura Per me è un mp7 che mi ha consigliato la chat UAV in rientro forzato Per fare rifornimento Avete del gas in arrivo Che paura A rimanere accorto del trophy Per me è un mp7 che mi ha consigliato la chat Dove cazzo è finito? Mi ha pure stilato la kill Infame Qualcuno l'ho ucciso? Fussi di merda Se mi stai ascoltando Fussi di merda Restano meno di 50 nemici C'era uno là C'era uno là Dove ricomparmi un altro Uaviva Selfrest l'ho comprato L'ho comprato Cazzo d'arrivo Qui serve una ricognizione Qui Jaguar 3-0 Confermato Fattugliamento UAV iniziato Così l'abbiamo proprio scapucciato per bene C'era una lira Oraccio era No questa aveva tanti soldini L'ho ribato tutto Autorizzare ricognizione Il bello è che io non ho nemmeno la mia cassa Vediamo mi dovrei fare 10k per comprarmi una cassa Non so quanto mi convenga una cosa del genere Però 16 kill Sono tante 16 kill Ci sta Cold champ Soldato nemico in arrivo Ma ho detto soldato nemico in arrivo E Non vedo nessuno Ma ha volato il gioco con le colla Qualcun altro deve rientrare comunque in zona Con il volo Bello è che non si sentono i passi Per colpa di questo bug Comunque ragà È tipo una partita sottile che mi capita sto bug È allucinante Va bene Quanto c'ho paura di non sfigato con il cecchino O con il lanciarazzi Non potete capire Quanto pesa Mother Warfare 210 giga Ricognizione alleata attiva Qui Jaguar 3-0 Ma è sparito Gas in arrivo Alla nuova zona sicura Qui Jaguar 3-0 Confermato Battugliamento UAV iniziato Vediamo se riusciamo a fare questo Cassi in arrivo Merda Nemico in discesa nell'area Attenzione UAV In rientro forzato Per fare rifornimento Ricognizione alleata attiva Battugliamento UAV iniziato Mamma mia Attenzione UAV in rientro forzato Per fare rifornimento Gas in movimento Nuova zona sicura individuata Avete del gas in arrivo Ne restano solo 5 Ne restano solo 5 Finisci il lavoro In arrivo Alla nuova zona sicura L'ho visto State perdendo terreno Ne mancano 2 Ultima possibilità Finite il lavoro Versaglio indicato Procedere Tracker 3 Risevuto Attacco in corso Lavoro finito 25 bombe Boy Let's get it Buono buono Bel game Bel game Pulito MP7 La mia arma Ragazzi Questo è il ruggito del leone Oh Ma tra l'altro Queste sono 25 kill Con l'audio buggato Buono 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 bu